parliamo ora nelle strutture dei sistemi operativi delle macchine virtuali quindi dopo aver fatto monolitici a livelli microkerner client server andiamo a vedere insieme le macchine virtuali dunque 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 siamo qua facciamo partire una freccina vediamo se spiegando mano a mano devo aggiungerci qualcosa allora prendiamo in considerazione cosa sono le macchine virtuali e anche alcune informazioni allora macchine virtuali e come possiamo immaginarsi la immaginiamo una singola macchina fisica che può essere divisa in più ambienti separati ognuna dei quali funziona come una macchina indipendente questo è proprio ciò che chiamiamo una macchina virtuale questo approccio consente tra le altre cose a più utenti di condividere la stessa macchina senza interferire l'uno con l'altro adesso ho disegnato un computer ma in realtà si potrebbe come dire disegnare un server un mainframe così però stiamo finito un server dice scusate in questo caso un singolo computer ma è per come dire far capire un attimo la il concetto dove più utenti possono condividere la stessa macchina senza interferirsi l'uno con l'altro in passato uno dei primi come dire uno dei primi sistemi a introdurre il concetto di virtualizzazione è stato il tss 360 di ibm eccolo qua e quindi come dire sono passati già tanti anni adesso l'anno preciso non me lo ricordo andiamo a vedere lo cerco in diretta vediamo se riesco a dirvelo nel 1969 direi sì quindi come potete capire tanti anni fa 1969 ed è stato uno dei primi sistemi a introdurre appunto il concetto di virtualizzazione significa che i tecnici di ibm e gli ingegneri di ibm al tempo hanno iniziato a pensare già a come rendere possibile l'esecuzione di più sistemi separati su una singola macchina la virtualizzazione è diventata particolarmente diffusa nel mondo del web del web hosting questo è importante perché ha migliorato l'efficienza nell'utilizzo delle risorse in pratica significa che è possibile eseguire diverse istanze di server virtuali sulla stessa macchina sulla singola macchina fisica se ad esempio io ho un server o un serverino qua che ospita tanti siti web questi rettangolini sono i siti web adesso scusate disegno un po da schifo ma per farvi capire server web se lo scriviamo anche eccolo qua cosa significa che se appunto un server che ospita diversi siti web ognuno di essi può funzionare come che fosse una macchina dedicata migliorando di conseguenza la flessibilità e la scalabilità immaginiamo appunto avendo un web server di avere questo server fisico potente e utilizzando la virtualizzazione noi possiamo creare server virtuali separati per i diversi clienti quindi proprio i clienti che devono gestire il proprio sito web ognuno di questi clienti può gestire appunto il proprio spazio web e le risorse senza alcun tipo di interferenza esistono software ve ne dico due mi aspetto che molti di voi già li avranno sentiti che sono virtual box e vmware per te la posso fare l'ho scritta e vmware eccolo qua che consentono agli utenti finali di sperimentare la virtualizzazione sulle proprie macchine quindi anche sui vostri pc volendo se potete fare una prova potete installare i loro prodotti e installare dei sistemi operativi sul vostro pc perché appunto questi strumenti permettono di eseguire più sistemi operativi contemporaneamente sulla stessa macchina è utile ad esempio se dovete testare del software su diverse piattaforme senza in questo modo dover cambiare fisicamente il vostro computer un aspetto interessante della virtualizzazione è la java virtual machine java virtual machine che è stata sviluppata da sun microsystem che adesso si chiama oracle insieme al linguaggio di programmazione java la java virtual machine consente di eseguire programmi scritti in java su qualsiasi macchina che abbia una java virtual machine installata e di conseguenza rende il software java molto portatile se ad esempio voi scrivete un'applicazione java su un computer può essere certo che funzioni su qualsiasi altra macchina che abbia una java virtual machine java virtual machine installata indipendentemente dal sistema operativo kin continuiamo per trovare attivazione internazionata indipendentemente dal sistema operativo kin continuiamo a luc